Ragazzi, allora, viste che ci sono i cugini e mi hanno chiesto un piatto un pochettino fresco, particolare, facciamo burrata, pomodorini li facciamo belli a passire, con basilico e ci facciamo questo bel piattino. Vamos! Andiamo in cucina! Sono a passire i pomodori, devono quasi bruciarsi. Piattino ha mangiato il costo, basilico e un ugliettale lendo, facciamo provare un po' di profumo. Pesto di pistacchio ho messo anche ragazzi, pesto di pistacchio, pomodorini, basilico e poi ci mettiamo alla burrata. Il sugo è pronto, abbiamo messo già tutta la preparazione, l'acqua deve bollire, io sto iniziato a fare gli straccetti di pollo a limone. Traccetti c'è! Adesso mettiamo la burrata e poi impiattiamo. Loro mi hanno costretto a fare i piatti più grossi oggi ragazzi, 7 etti di pasta, siamo in 8? E va bene, eccolo qua. Poi ci vuole anche il peperoncino a cascata. Andiamo con il peperoncino a cascata ragazzi, adesso lo spezziamo. Vai col peperoncino a cascata ragazzi, dai che si mangia! Favorite? Tutta la pasta zio! Ti piace? Ti piace sicuro? Hai messo il peperoncino a cascata anche tu? Sì sì! Allora non cucina più. Mi è venuta la pasta, ti piace? Una meraviglia! Una meraviglia! La possiamo buttare allora, Maria c'è caldo? Sì sì!